Amici di ON TV, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di che calcio vuoi, allora finisce il campionato di Serie B per quanto riguarda la Ternana perché poi adesso ci sarà l'appendice playoff e playout ma a noi ci interessano i nostri colori, finisce male perché abbiamo preso direi come succede abbastanza spesso a questa squadra 4 gol in quel di Ascoli che non è mai piacevole anche se oggettivamente adesso sarò una voce fuori dal coro o meno fuori dal coro, comunque sia a me non me ne può fregare di meno, sia chiaro, non è che giudico la stagione della Ternana dall'ultima di campionato in cui anche se avesse vinto non avrebbe modificato di una virgola la sua posizione in classifica, è chiaro non fa piacere, non fa mai piacere perdere, non fa mai piacere perdere in questo modo, però mi sento di dire che non valuto la stagione sull'ultima partita ma su tutto il campionato ed è un'analisi che sarò felice di fare con i miei amici Gigi Manini e Gianni Giardinieri, ciao a tutti, allora Gigi la partita di ieri oggettivamente lascia la mare in bocca perché comunque sia, perdi 4-1 con l'Ascoli che non è esattamente una squadra simpaticissima da queste parti, però intanto onora il merito, l'avversario si è visto, sta bene, in forma, va meritatamente, c'era già, ma consolida la sua posizione in classifica e farà la partita secca dei playoff in casa, grazie alla vittoria di ieri e quindi qui ti vengo a dire, mi sembra che la differenza di motivazioni fosse palese, ieri in campo, almeno quello che si è visto secondo voi, penso ci sia anche stata una discreta sbornia post derby, non voglio parlare di appagamento perché poi la Ternana ha anche giochicchiato, non è stata certo fenomenale, però non era partita male, ha avuto qualche occasione, nel complesso non la peggiore Ternana, abbiamo visto di peggio, abbiamo visto di peggio, abbiamo visto di peggio, a Vicenza per esempio abbiamo visto molto di peggio, la peggio è stata a Cosenza, però insomma adesso a fare una tragedia perché abbiamo perso l'ultima di campionato che non cambiava niente, no è che tu come al solito non leggi, non interagisci, però me ne vanto, tu te ne vanti, io ti riporto un po' l'humore della piazza, va beh, su questo è meglio che non mi esprimo, se no ma ha detto questo, questo è stato un film già visto, no? Abbiamo già visto, la Ternana ha iniziato bene i primi dieci minuti, giocando meglio dell'Ascoli, primo gol preso, che è stato grande merito, soprattutto di Dionisi, ma anche di Sajut, la difesa però non impeccabile, poi dopo si è sciolta come neva al sole, primo tempo poteva prendere altri gol, è stata una traversa clamorosa, la Ternana ha continuato a giocare, dopo con l'ingresso di Partipilo sembrava che fossimo andati un po' meglio, il terzo gol, la partita è finita, potevamo prendere anche 5-6, ma è già successo con Vicenza, abbiamo visto queste cose, tu dici giustamente, contava poco, contava poco, però con Lascoli abbiamo preso i 8 gol, il che non è piacevole, mi sento invece di dire un'altra cosa adesso, scusa se cambio discorso perché sicuramente qualcuno ci starà aspettando per sfotterci, no? Per dire, visto il Pelugia nonostante ha perso i 8, io ti dico questo allora, mi sento di dire questo, Pelugia sarebbe meritare, che con una squadra, bisogna dire, insomma no, adesso al di là della simpatia antipari, con una squadra che indubbiamente non è fra le migliori 8, ieri al termine di un campionato nel quale ha dato tanto, forse più di quello che vale, è riuscita a vincere in casa col Monza che voleva vincere o pareggiare per andare direttamente in Serie A, quindi onore al merito, io questo vi devo dire, quando una squadra con i valori del Pelugia, che li abbiamo visti contro di noi, no? È una squadra che fa quello che può, arriva ai play-off, poi adesso non so quello che accadrà, pur, no? Non so, a dead distretti o a torto collo, bisogna ammettere che se le meritano, è una squadra indubbiamente più debole della Ternana, che però intanto è arrivata a ottava e fa i play-off, la Ternana è arrivata la decima, con diverse imbarcate, delusioni e insomma, come posso dire, durante un campionato quando prendi più volte 4-5 gol, dispiace. Abbiamo contato i 7, 4 gol o più, non abbiamo contato i 3 gol. Sì, ti aggiungo che c'erano 350 tifosi della Ternana, Ascoli, non è che fa piacere prendere 4 gol in una partita del genere, poi sicuramente questa settimana questi ragazzi avranno festeggiato, però insomma ecco, la classifica non sarebbe cambiato nulla, no? Dopo la partita con Frosinoni, però tu dici 57 cambia poco, anche un pareggio, secondo me invece sarebbe cambiato, perché avresti concluso la stagione meglio, ma forse da un certo punto di vista è concluso, è una cosa buona, perché ci fa capire che questa squadra con 4 under, come ho sentito dire, non può lottare per andare in Zeria. Questo l'avevamo già detto. Allora, l'avevamo già detto, ma da retta, ribadiamolo. Dammi retta, perché già sendo, purtroppo forse non solo i non addetti ai lavori non capiscono di calcio qualche volta, perché sento dire delle sciocchezze clamorose, questa squadra ha bisogno di 3 o 4 giocatori con gli attributi, perché dico attributi per non usare altri termini, ma veramente con gli attributi. E forse non in avanti, mettiamone 2 a difesa e 2 a centrocampo, da retta, no 1, 2, poi quelli che abbiamo possono anche restare parecchi di quelli come cotitolari, ma 4 giocatori se vuoi vincere il campionato, se lo dici e non lo vuoi vincere è un discorso, io invece credo alle parole di Bandecchi, allora per vincere il campionato guarda Bandecchi, te lo dico io, lascia perdere chi chiacchiera a Bambera, ti servono 4 giocatori con i cabassisi, ma 4, ma 4 giocatori di categoria, allora poi, visto anche il campionato che ci apprestiamo l'anno prossimo a via, scusate, una parentesi, se li dici i cabassisi li caccio via, continuo, 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 non lo ridire più, 8 cabassisi, ma vuoi fati una marolaccia? Ma la vuoi fati? Ma basta, non la dico, ma che cazzo è andato a sede, di Ragusa, ci servono 4 giocatori che prendono in mano la squadra, se lo dici in italiano, se lo dici in dialetto è meglio, non lo capi che cambia, non sembrava una parolaccia in quel modo, capito? Ah, la di Zepperei, marroni, dicevo, vabbè, insomma, si è capito, ci servono 4 giocatori che quando la partita si mette male prendono in mano la squadra, che accerchiano l'arbitro quando è necessario per evitare gli tolti arbitrali che abbiamo visto, insomma, la squadra sa giocare a calcio questa squadra, spesso, evitiamo anche il equivalolacce, spesso, qualche volta, anzi, spesso, durante il campionato è stato un po' lezioso. Perché, sempre perché non si può usare la parola che vorremmo dire, per descrivere la leziosità, si dice in un altro modo, chi vuole capire capisca, Gianni, tu, Lunginetto, allora, la partita di ieri, sborni a post derby, è il minimo, purtroppo, ancora una volta, successo quello che è successo quando siamo andati a vincere a Perugia col famoso 1-2 pari, 2-1, 2-3-2, insomma, 3-2 finale. Stavolta è meno grave perché, stavolta lì fu grave perché poi dopo perdemmo in casa col Pescara 3-0. È stata comunque ieri una cosa simile, cioè vittoria del derby, festeggiamenti, ok, finito il campionato. Al fischio finale di Massa, a Terni, il derby è finito il campionato per noi. E quindi me l'aspettavo. Me l'aspettavo, non magari con queste dimensioni perché c'era Lucarelli, però un po' me l'aspettavo. Il fatto è che questa squadra qua deve salire anche di consistenza, come dire, di personalità, perché non può fare grandi partite alternandole a queste debacle per usare un eufemismo, no? Invece bisognerebbe dire, sdoganiamo anche queste partite un po' a vacca, diciamo. Perché quello che è successo ieri ci può stare, perché io la penso esattamente come Enrico, cioè non è che cancella la sconfitta di ieri, un buon campionato nel quale l'Atenano merita sicuramente la sufficienza. Però, certo, ci sta modo in modo di perdere, quello senz'altro sì. Tra l'altro io a un certo punto, preso dallo sconforto, al 75esimo ho preso, ho cambiato. Mi sono messo a vedere proprio Perugia. No, io mi sono messo a cenare invece. Lui mi sono messo a cenare. Poi tablettino, però mi sono messo a cenare. E vedendo Perugia-Monza mi sono accorto di alcune cose, no? Allora, il Monza, intorno proprio al 75, al primo tempo si è mangiato un gol clamoroso, Ghittchia, davanti alla porta e va bene. Non avevi dubbi, ma nemmeno io. Al secondo tempo, prima che segnasse Perugia, che ha segnato in contropiede, Perugia segna in contropiede. Con Ferrarini che era solo. Il Monza si è mangiato quattro gol clamorosi, clamorosi. E il Perugia ha fatto la stessa partita che ha fatto nel derby. Cioè, vuole dire, aspettiamo, vediamo che succede. Poi, negli ultimi dieci minuti, chissà, fanno un golletto, così è andata. E sono riusciti ad arrivare ai play-off. Sono d'accordo con Gigi, onore al merito, perché è una squadra che rispetto alla Ternana, ma questo l'avevamo detto anche prima del derby, è una squadra da Serie B, un po' come l'Ascoli. Cioè, sono quelle formazioni che le devi battere. La Ternana, invece, è una formazione che quattro volte si batte da sola. Cioè, entra in campo già sconfitta, e questo in Serie B non è possibile. Purtroppo, però, è così. Lucarelli, quando dicono abbiamo preso tanti gol, Lucarelli, è così. A Catania, abbiamo una barca di gol pure a Catania. Ne faceva tantissimi, eh. Ne faceva tantissimi. Ma anche qui ne abbiamo fatti tantissimi. Qui è uguale. L'anno scorso, ragazzi, noi abbiamo fatto 100 gol in campionato, una vasta generale. Ma ne abbiamo presi parecchi per la qualità di squadra che avevamo. Neanche grandi. Sì, ma ne abbiamo preso. La realtà è che tu quest'anno hai fatto tanti gol, perché mi sembra che siamo nei primi 5 attacchi. Siamo il quarto attacco del torneo. Ma siamo la penultima difesa. Ecco, la penultima difesa. Siamo peggio di quelli che sono retrocesse come difesa. E poi, ripeto, Il problema sta lì. Per me, Enrico, la cosa insopportabile è questa. Che la Ternana spesso si batte da sola. Io vorrei una squadra che in Serie B la devi distruggere, la devi lavorare, la devi impastare, la devi proprio, come dire, ci devi stare sopra 90 minuti per batterla. E invece noi siamo una squadra che entriamo, leziosi. Per chiudere, scusate. Cioè, il terzo, poi finisco, sì. Il terzo gol è che becchiamo, Coccelli che cerca, all'imegallare di rigore, di andarsene in dribbling. Ecco. Un caro ragazzo, ma... Cioè, ha giocato anche bene. Ha giocato anche bene. Ultimamente, però quella è l'esemplificazione. Poi sul tuo 1, magari ancora te la potevi giocare, se non prendi. Io quello che volevo dire, me lo sono scordato. No, quello che mi preoccupa, non è che mi preoccupa, cioè, volevo fare una riflessione, poi magari la commentiamo bene dopo, ve la introduco. La Ternana ha fatto, intanto ci sono due Ternane, quella del girone di andata, quella del girone di ritorno. C'è un abisso tra le due. Vabbè, però l'imbarcate l'ha presa anche lì. L'imbarcate l'ha presa comunque, quindi modulo, non modulo, per carità. Però, diciamo, una Ternana nel girone di ritorno, che notoriamente è più difficile, ha fatto meglio da quella del girone di andata. Non si può dimenticare che se noi perdiamo col Pordenone in casa, come avremmo strameritato di perdere. E li rischiavamo, perché Falletti si era appena fatto male. Perché non stavamo a parlare che sono sfumati i play-off, e potevamo fare due punti in più, nell'ultima partita. Se perdi quella, rischi di stare in vischiata. Sì, perché rischia di saltare l'allenatore. Per cui, chiunque ascolta questa trasmissione, deve capire che non stiamo parlando di una squadra che ha fallito un obiettivo. No, no. Deve essere molto chiaro questo, che se vuole andare veramente... Perché ci sono stati anche diversi i torti arbitrari, diciamolo chiaro. Per carità, ma quelli ci stanno sempre. Come ha detto Gigi, servono acquisti forti, no, a quattro under, così tanto per rimbordare. No, ma questa cosa, scusa, non mi viene in mente. Poi, scusa. Questa sciocchezza chi ha detta? Ha detta a Lucarelli, in conferenza stampa, che gliel'ha comunicata a Leone su input del Presidente. Questo è... Direttamente Bandecchi. Bandecchi, che ci è superiore, senz'altro, per capacità manageriale, non ci vorrà mica insegnare a lui il calcio. No, ma sì, ma per carino. Quindi qualcuno gliel'ha detto. No, a tal proposito pure Bandecchi, quelle dichiarazioni che... Comunque, ricominciamo che mi interrompono sempre le regista. Io li gonfio, questi in diretta, anche all'ultima. Tanto all'ultima, che me frega. Beh, ma perché tu non vi interrompi? No, vi ho fatto parlare tutto il vostro intervento. Allora, per concludere, dicevo, la Ternana deve, però, ripartire da un dato. Per numero di vittorie, sta alla pari di quelle dei play-off, se non meglio di qualche d'una. il dramma, solo le sconfitte. Cioè, questa è una squadra che per dire, non riesce a piegare quel punticino, no? Che potrebbe servire qua e là. Non riesce a limitare i danni, prende tante imbarcate. Per cui, questo era il discorso che vi volevo introdurre per discutere appena dopo la pubblicità. No, voi mi avete interrotto. Pubblicità. Taci. Un negozio lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché, insieme, possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia, la cucina si chiama lube. Aterni, in via Farini, di fronte alla Coop. Do you know where emotions come from? o 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 Grazie a tutti. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione, in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Passa 91, a te. Dog & Catlaw Dog & Cat Bene, eccoci qua per il secondo blocco, vi ribadisco il concetto che abbiamo espresso prima, però prima consentitemi di fare un reminder a caro Fabio Grosso, per il quale l'angolo era netto, per il quale il rigore era netto, per il quale la mancata qualificazione di playoff è altrettanto netta. Prego, adesso potete, quasi quasi siamo contenti che ci è andato il Perugia, no, io dico solo che gli abbiamo battuto il Perugia, non lo so, che voleva di più, si è fregato un po' con quel rigore all'ultimo minuto e tanto non si è andato per le cose, è il karma. E ieri, sempre grosso, perché vedevo il Perugia, ho visto anche il Frosinone, ha messo gli ultimi 5 minuti, attirava tutte le pallonate, ci ha messo Gatti, centravasi, avete visto? E Gatti si è pappato un gol proprio assurdo, ha tipo 2-3 minuti dalla fine, di testa. Una squadra che sulla carta ha dei valori, ma non è mica indifferente. Ma ha un problema grosso la squadra. I delzini forse più forti della Serie B c'era il Frosinone, c'era l'andata più forte della Serie B c'era il Frosinone. All'andata ci fece una buona impressione. All'andata ci fece una buona impressione. È un giudizio tecnico. All'andata ci fece una buona impressione. Sì, però è l'unica squadra che forse ci mise sotto. Alla fine siamo contenti che ci va il Perugia, non ho capito. Io sono contento per grosso, questo è un altro discorso. Poi a me del Perugia non me ne frega niente. Sono anni che ve lo fanno. Chi ha visto la missione della settimana scorsa non è tanto. Sono contento se vinco il derby, ma poi del resto... Tu sei di scondivo come la Bernardo. Non è vero, perché di tutto io ti ho sempre detto che a me del Perugia mi interessa quando ci gioco contro. Punto. Dopo, se vince col Monsa o perde con la Paganese, non me ne può fregare niente. Ti vorrei ricordare che se vince il playoff è stato tra l'anno che giochi con tu. Meglio, siccome sono sportivo... Lo fai come a Bandecchi. Siccome sono uno sportivo, gli faccio i complimenti. Ma anche io, te l'ho detto prima. Scusa Enrico. Certo, se ci avesse trovato il rigore che stava crossando l'andata, probabilmente il playoff ci andavamo noi. Siccome la puntata... Però, a proposito di questo, scusa, ho sentito... Ma i 7 euro del playoff... Scusa, non mi va di fare nomi, no? Perché è brutto. Però ho sentito professionisti di TV Perugina, che io stimo molto, tra l'altro. Non mi va di fare nomi, però sono molto... Io li stimo, sono grandi professionisti. Continuare a dire che il rigore dell'andata è andata in giro. Scusate. E dire che era più netto quello di Bo. Allora, scusa, vorrei chiarire che la regola di cui si parla, che è quella che si tocca prima... Non esiste... Che poi non era la regola, era una raccomandazione. Non esiste più. Cari amici. Perché, ripeto, queste persone a cui mi riferisco sono persone che stimo, giornalisti seri, che, fra l'altro, lo fanno di mestiere, non come me. Però continuare a dire questa cosa. Perché ho sentito dire, ripeto, da professionisti che conosciamo, molto bravi... Ma l'abbiamo scagato. Che era più netto il rigore quello di Bog. Allora, io mi sento di riassumere qui. All'andata il rigore gigantesco per la Ternale. Al ritorno due episodi dubbi. Un dubbio, una trattenuta non netta, che però ci poteva stare su Partipilo. E un fallo di mano di Bogdan. Che anche lì qualche dubbio ce l'ho anch'io. Perché comunque è un fallo di mano netto, un po' vicino. Ma insomma, quello è che è completamente lungo. Però questo bisogna essere onesti, lo riconosco. Però dire che quello dell'andata non c'era. Perché prima tocca la coscia. Ma ci abbiamo fatto tanto dei grafici. Non ti so, convinti, ma questo io lo dico con amicizia, sia chiaro. Comunque... E ripeto, merito al Perugia che vai playoff con una squadra che valutata al giocatore del giocatore. Noi gliel'abbiamo dato il merito. Io ti voglio dire questo invece. Sicuramente il Perugia, adesso non volendo essere campanilisti, non voglio dire che la Ternale è più forte, ma sicuramente il Frosinone per Rosa è più forte, il Parma per Rosa è più forte. Ma anche la Ternale. La Ternale non lo so. La Ternale, per proposito di interruzioni, stavo dicendo un concetto. Io penso che sarebbe interessante sviluppare questo tema. Cioè l'uscita di Bandecchi post derby, quando dice in bomba magna su Instagram che lui stava a cena dopo il derby su un ristorante da 7 euro perché la Ternale comunque aveva fatto un campionato schifoso, che del derby non mi fregava niente. No, proprio schifoso l'ha detto. No, non usavo questa parola. Però insomma dice non me ne frega niente, ha fatto capire. Il senso era questo, le parole non. Comunque insomma era scarsamente interessato alla vittoria del derby. Non solo inopportuna, ma anche come dire, con quella cosa... Perché sempre buttare queste secchiate d'acqua fredda, gelata... Ma guarda che tanti Ternale mi hanno detto. Eh, ma perché? Non lo so. Qual è? Te lo dico io. La strategia di comunicazione qual è? Stanno a me sentire, Gianni. Perché dentro la Ternale, dentro i tifosi, non lo so, stanno due partiti. Quello che dice che Lucarelli è molto bravo e quello che ce l'ha con Lucarelli che dice che non siamo andati per le off per colpa di Lucarelli. Secondo me anche qualcuno vicino a Bandecchi lo pensa. e allora Bandecchi ogni tanto lo dice. Ma siccome c'è qualcuno a Terni che è quello che dice Bandecchi gli va presso, ci stanno... È una cosa... Ma lo so, lo sappiamo. Allora Bandecchi sta dicendo, sta facendo capire che non è contento che cambia qualcuno, sta dicendo che la Ternale non è andata per le off perché o comunque ha fatto un campionato deludente. Secondo me non è deludente. Ma neanche secondo me. Come valori, vabbè, potevamo arrivare a Ottavi, ma ci poteva arrivare anche il Parma o il Frosinone, non è che noi siamo più forti di questo. Cioè, potevamo andare per le off, ma che con questa squadra non vingevi per le off. Gigi, ha messo in un concesso che ci sia questa doppia... Eh, ci sta. Queste due anime, e vabbè. Ma questo non legittimo a Bandecchi... Bisognerebbe parlare invece del direttore sportivo. Sì, però questo non legittimo. Ma il fatto che ci siano due squadre di pensiero non significa che Bandecchi è, come dire, autorizzato perché è presidente, ma non significa che sia, come dire, propositivo per la Ternana e favorevole per la Ternana fare un'uscita con quella lì. Gianni, scusa se ti interrompo. Ma tienitela. Ma lo sai perché si parla dell'allenatore? Perché non si può parlare del direttore sportivo. Perché non si può dire che, avendo finito il campionato a metà marzo, ha comprato i giocatori di Servino il 31 agosto. E che le prime tre partite le hai perse perché la squadra non l'avevi fatta. Sì. Va a guardare. Però anche lì, ti ho detto tante volte, che Lucarelli ha sempre detto in conferenza stampa che la squadra va bene così, sono soddisfatto. Ho capito. Non è uno che gli manca la personalità per dire no, a me non mi va bene. Adesso vediamo se quest'anno ripetiamo lo stesso errore o se riusciamo a consegnare per il ritiro che sarà fine giugno, prima di luglio, perché il campionato inizia prima, una squadra completa. Perché la Ternana a maggio ha finito il campionato. Le altre, chi c'ha i play out, chi c'ha i play off, chi si deve salvare in Serie A. Le altre... La Ternana si è salvata a marzo. Fra l'altro. Ma se poteva cominciare a fare il campionato. Io dico una cosa, la ribadisco. Scusa, è giusto, siamo andati a presso, è un portiere tutta l'estate, alla fine abbiamo preso quello che ci hanno tirato dalla finestra. Ah, e se è visto. E se è visto. Io voglio ribadire un ennesimo congetto. Dentro la Ternana a calcio, chi sa di calcio più di tutti messi insieme è Lucarelli. Ah, sicuro. Basta. Cioè, perché chi parla male di Lucarelli è perché gli fa ombra o perché gli smaschera gli errori. Eh, appunto. perché questa dice Bandecchi che poi Lucarelli non sarà il miglior allenatore del marzo perché gli ha fatto degli errori. Bandecchi è legittimato a parlare in quanto proprietario. Il resto ci mancherebbe. Parla qualunque imbecille del globo terrestre che ha un profilo in Instagram figuriamoci se non può parlare. Ma poi il Presidente mette i soldi, ci mancherebbe. Ciò non dolie. Magari è consigliato male. Ciò non dolie che esiste poi dopo il diritto di critica però di chi ascolta. Non mancheranno mai le critiche di fronte a questo tipo di atteggiamento perché Bandecchi gli potrà anche rodere di mettere 20 milioni, di 3 milioni, quello che ha detto ci per arrivare decimo. Ma si deve anche ricordare da due partiti perché se Bandecchi i 23 milioni li metteva quando ha preso la Ternana invece di mettere Pococcesi tre quarti del fondi è una serie di figure da operetta. Voglio essere giordini. Si disse pure a gennaio di metterli se vi ricordate. No, siccome allora io questa è una persona che ha le sue idee e coerentemente le insegue però non è una persona umida questo è poco ma sicuro perché è convinto e capisce tutto lui e quelli anni sono tutti stupidi o gli danno ragione o è un problema. Ma non è neanche vero questo. Allora io ribadisco il concetto. Lui è legittimo perché se la Mendi non è contenta benissimo. Io dico che se non c'era Lucarelli danno retrocessi facile con allenato Luccio magari scelto da Leone io dico che se vuoi andare in Serie A deve mandare via Leone lo ridico per la centesima volta perché quante volte l'ho detto a parte non mi sembra che ho sentito grosse obiezioni da parte vostra prende uno di categoria che conosca i giocatori anche fuori dall'Abruzzo soprattutto all'estero perché hai visto quello che ha fatto Corvino con Lecce ecco e non fidarsi di chi dice bagianate perché questa squadra con quattro under non va da nessuna parte diciamo prima lo diciamo in tempi prima a parte l'hanno detto già un mese fa a meno che prendi 4 under 21 se pigli Haaland è un discorso anche quelli ma non credo che piglieranno questi giocatori anche perché quelli bravi massimo te li danno in prestito se proprio va bene che poi in prestito non è come averli di proprietà esattamente non è la stessa cosa comunque per finire Bandecchi ha tutto il diritto di esternare come vuole ha detto bene Enrico poi c'è il diritto di critica ma poi c'è anche un'altra considerazione da fare è un consiglio faccio bene o faccio male aiuto o peggioro la situazione per il bene della Ternana e per il bene delle diverse componenti dentro la Ternana secondo me tirare sempre fuori la carota per una situazione e il bastone per un'altra non è il miglior modo dopo il Parma infatti dopo se ti ricordi tra l'altro nei momenti di grande euforia del campionato dopo Parma dopo Perugia non capisco perché queste zicchiate perché secondo me Gianni questa è la mia opinione secondo me qualcuno gli dice sì abbiamo vinto però però fa meglio non so chi però qualcuno glielo dice perché se no mia se lo inventa non lo so però mia ci avrà gusto no? no l'ho visto contento della vittoria Bandecchi dopo la vittoria col Perugia era con te l'abbiamo visto tutti si è arrabbiato dopo quel rigore del Flossino quindi lui ci tiene se lui dopo una vittoria come quella col Perugia si dice non sono contento evidentemente qualcuno gli ha detto vabbè però con sta squadra dobbiamo fare i playoff anche lui che ha detto poco tempo fa io è il primo anno che sto in Serie B no cioè c'è stato un altro anno in Serie B cioè quando hai preso la squadra è vero che non era il presidente ufficiale e c'era Ranucci però lui era comunque adesso detto di Bandecchi che quell'anno lì insomma l'ha detto Enrico ma con quella squadra ma poi gli è stato detto in tutti i modi gli è stato detto in tutti i modi no aspettiamo vediamo di lavorare ma che vedi lavorare ma che devi vedere lavorare Repossi ma i giocatori ci conoscono Ascoli Ternana Repossi sapete dove gioca? vabbè anzi non gioca ma Repossi non era titolare non gioca in Serie D con Guzzano quella non è colpa di Bandecchi comunque te ne ho detto questo è colpa nostra cambiamo discorso e torniamo invece sempre allo stesso mi sa che devo stai a fare no ricordati vuoi dire ci apriamo una seconda parte fine prima parte ci vediamo tra poco se ne scordi grazie a tutti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti